Coluccio Marco, Danna Giuseppe, Grazioso Mariano, Bruno Nicola, Capano Andrea, Valentino Salva, Regnola Pasquale, Marno Curissa, Lontenna Vincenzo, Diletto Massimo, Parla Giuseppe, Ferre Mariana, Giavaro Salvatore Ramagia Vincenzo Brutto Angela Troiano Gennaro Vese Maria Laura Vico Gennaro Vignati Elena Baratto Mauro Valuto Caetano Cuccio La Squara Grazie Presidente Buongiorno a tutti Un sindaco e l'assistore Consigliere Unato Allora, in carico alle presentazioni Fatte dalla consigliera Russo Ci preve sottolineare due aspetti C'è stato evidentemente un problema Di carattere tecnico Proletato alla piattaforma Ma gli altri sono stati Tutti assolutamente Proletati dalla parere di revisori Di senti stabiliti Da quando previsto Da una forma E in secondo luogo Per quanto riguarda Gli aspetti Legati Alla comunicazione Spesale dell'assistuto Spesale dell'assistuto Spesale dell'assistuto Alla sottoscrizione Sì, allora Non c'è la necessità Della firma Da parte dell'assistore Perché l'assistore non è il deputato Il sindaco è il deputato Che si tratta Per quegli atti di consiglio Dalli atti Sono tutti con le parti Da valire E da firma Da parte Del dirigente convenente Segretario Un'ultima analisi Per l'ennesima volta Ripanisco Quando già Sottolineiamo Dato La consigliera Parla Ma di meno Qua la responsabilità Oc'è di inviare Tutta questa documentazione Alla morte Dei punti Di merito Alla successiva Quindi La proposta Da parte Della Dell'opposizione Da parte nostra Non può essere Accorta E noi Procederemo Continuiamo Di procedere Alla prossima Grazie